I cambiamenti climatici non influiscono solo sulla qualità dell'aria ma anche sulla migrazione. Alcuni esperti sostengono che con il surriscaldamento globale zone ora coltivate diventeranno desertiche e altri eventi catastrofici renderanno invivibili alcune aree del pianeta costringendo chi oggi vi abita a migrare altrove. Si tratta di un fenomeno già molto diffuso ma nonostante questo la Convenzione di Ginevra del 1951 non riconosce lo status di profugo a chi scappa da disastri ambientali. Per far conoscere il tema ai giovani oggi al Corni di Modena numerose associazioni hanno organizzato un convegno per parlare del collegamento tra ambiente, clima e migrazioni. I cosiddetti migranti ambientali sono ormai la maggior parte. Si muovono perché nei loro territori non è possibile vivere. Una grande siccità, una grande alluvione li spinge a venire qua. Questo spesso connesso anche a situazioni politiche intese come sicurezza personale, proprio pericolo di vita, che li spinge a venire qui. Dunque, se oggi noi consideriamo, ed è impossibile non considerare il mondo una casa comune proprio perché l'area che risperiamo è di tutti, il problema va affrontato da un altro punto di vista. Sicuramente associare l'immigrazione alla sicurezza è un approccio del tutto sbagliato, povero e falsato. La vita migra sempre insieme, non possiamo confinarla dentro gli stati, altrimenti le specie migratorie di uccelli e di pesci non riuscirebbero a riprodursi. Io ho provato a ragionare su queste connessioni delle migrazioni, che sono sempre ambientali, hanno sempre anche un impatto economico, soprattutto non sono mai solitarie, sono sempre di più specie. E noi, specie umana, che è stata capace di arrivare a vivere ovunque da tante decine di migliaia di anni, dobbiamo essere consapevoli che gli ecosistemi vanno rispettati e che siamo tutti un po' meticci. Veniamo da tanti geni diversi.